Cara Natero, lei rappresenta questa nuova realtà della sinistra, di che cosa si tratta? Perché questa nascita di questa nuova formazione politica a livello nazionale? Sì, alcune forze che hanno intenzione di fare un quarto polo nella politica italiana, alternativo al centrodestra, al Movimento 5 Stelle, ma anche alternativo alla politica del PD, si sono messe insieme e sono possibili, sinistra italiana, articolo 1 MDP, si sono messe insieme per cercare di costruire una vasta forza di sinistra, costruirla in rapporto con le associazioni, in rapporto con il cinismo di sinistra, in rapporto con grandi personalità della sinistra, come Pietro Grasso, che guiderà questa nuova forza politica, per costruire appunto questa alternativa. Noi pensiamo che sia necessario nella prossima campagna elettorale, in primo luogo per battere l'astensione, in secondo luogo per dare le risposte ai giovani, alla parte più debole della società, che si presenti una forza che abbia alla sua base i principi della Costituzione italiana che abbiamo difeso nel referendum di un anno fa, che abbia alla sua base i principi della rivoluzione francese, poi come sono stati anche interpretati dal Movimento Socialista nel passare dei decenni e come sono stati poi interpretati e ripresi dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Quindi una forza di liberi e uguali che proponga un cambiamento radicale alla nostra società. Non radicale per motivi ideologici, ma radicale perché il presente è talmente difficile che per difendere i lavoratori, i giovani, i pensionati, gli anziani, è necessario un progetto di cambiamenti radicali, che è quello che noi proporremo al Paese in questa campagna elettorale. Noi riteniamo che questa campagna elettorale sarà soltanto la prima tappa di questo processo più lungo che vedrà come nostro obiettivo dare all'Italia una rappresentanza di sinistra così com'è in tutti gli altri Paesi europei. Una rappresentanza di sinistra che sia a due cifre, forte e credibile nel Paese.